A me in mezzo Vai Luca! Vai! Vai Franci! Vai Franci che è tua! Franci sotto! Non mollare! Bravo! Bravo Franci! Chiudi, chiudi, chiudi! Vai Ricci, vai Ricci! Come è il sabato? Bravo! Fuori, fuori! Buone ragazzo! Manico! Bravo! Guardi! Vai Damiano! Vai Ricci! Guarda in mezzo! Tutte e due nella stessa posizione! Guardi un po' la vita! Vai Luca! Vai! Dai Pano! Dai Pano! Vai! Chiudi! Chiudi! Via! Via! ma via vai Luca su, su guarda tutti vicini, troppo bassi tutti qua subito giuse, subito subito vai, vai buona Franci ma non fanno a scorrere in fondo vai, prendalo Arnia ma perché non l'hai visto in due vai vai Luca, bravo vai Franci, vai Franci vai Luca guardalo, guardalo dai Pano dai ancora bravo Vicky dai ancora bravo Franci vai ancora vai Cri via di lì dai vieni lì dai stai dai fuori vai a niente dai 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 di consegnare la distinta appena possibile obbligatoria per tutte le squadre grazie vai vai è tua bravo vai giocala guarda vai bravo ancora ancora non va ah secondo me non 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 dai dai non 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 non